Mi chiamo Saverio Frascati e dal 2019 sono team manager di Euro Anza in Abruzzo. Ho iniziato con una mia agenzia nel 2010 a Forma, in provincia di Latina, dove gestivo diversi collaboratori. Poi nel 2017, a seguito di un grave problema di salute che aveva coinvolto mia sorella, mi sono trasferito in Abruzzo, perché volevo stare vicino a lei sia a livello personale che professionale. Nello stesso periodo ci rendemmo conto che la società per la quale collaboravamo da più di vent'anni, anziché supportarci in quel momento, ci aveva messo in competizione con un altro collaboratore della stessa società, che era venuto nel nostro territorio come un avvoltoio per sfruttare la situazione. Fortunatamente riuscimmo a superare quel momento, e dopo aver dimostrato per l'ennesima volta a quell'azienda il valore del nostro gruppo, decidemmo di uscire. Ci mettemmo alla ricerca di una società di mediazione che mettesse le persone al primo posto e che avesse al cuore non solo i numeri, ma soprattutto l'aspetto umano dei propri collaboratori. E in quel periodo feci diversi incontri, incontrai diverse società di mediazione e credizia. Quella che mi colpì più di tutti fu Euro Anza. La cosa che mi colpì di più fu lo slogan, le persone prima di tutto. Era quello che stavamo cercando, quindi mi colpì profondamente. Poi feci una ricerca sul sito OAM, dove andai a verificare praticamente il rapporto tra le entrate e le uscite di tutti i collaboratori, che erano presenti in tutte le società iscritte ad OAM. E mi accorsi che Euro Anza aveva la percentuale più bassa di uscite rispetto a tutte le altre. E questo mi fece capire che le persone che entravano in Euro Anza erano soddisfatte. E quindi mi misi in contatto con l'azienda e fortunatamente riuscì ad avere un incontro direttamente con Anzano. In quell'incontro ricordo la semplicità con cui si presentò Anzano. Avevo di fronte il fondatore dell'azienda che mi fece sentire fin dal primo minuto parte della sua azienda. E in quel momento capì che stavo entrando in un'azienda di famiglia e che dovevo rappresentare nel migliore dei modi nel territorio dove lavoravo. Tornai in Abruzzo e comunicai a tutti i ragazzi che avevo preso la decisione definitiva e che Euro Anza è la nostra nuova società. E quindi avevamo l'obiettivo di far diventare Euro Anza una delle prime società di mediazione in Abruzzo. E ad oggi possiamo dire con orgoglio che ci siamo riusciti. Euro Anza oggi in Abruzzo è cercata tantissimo dagli istituti di credito. Non solo perché lavoriamo un numero di pratiche importanti ma soprattutto perché presentiamo pratiche di qualità. L'obiettivo per il futuro è quello di contribuire sempre di più alla crescita di questa azienda perché mi ha dato tanto e sento il dovere e il piacere di ricambiarle ogni giorno. Grazie. Grazie. Grazie.